Oggi un grande classico per le feste natalizie. Nel bicchiere del latte aggiungete il lievito di birra. Nella ciotola della planetaria unisci le farine, lo zucchero, i tuorli e azionate la planetaria. Unite il latte con il lievito, il sale e il burro un pezzo per volta e lavorate. Tirate fuori l'impasto e dategli una forma di sfera. Mettetelo in una ciotola e copritelo con pellicola. Lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Stendi con mattarello e forma un rettangolo. Effetto la pirlatura facendo roteare l'impasto tra le mani. Adagia l'impasto nel pirottino. Copri con pellicola e lascia lievitare finché l'impasto non raggiunge quasi i bordi. Spennella con il latte e forno a 180 gradi per 40 minuti.